buon pomeriggio bentornati all'emigrante io sono giudy sarno questo è il salotto di cusano italia tv 264 del digitale terrestre e oggi è un'intervista particolare inusuale ho qui con me l'emigrante di oggi che arriva da follonica lei è una giornalista ed è la prima volta che viene intervistata quindi preparatevi perché sarà un'intervista particolare io anche oggi sono vestita a fiori come promesso da lunedì tutti i giorni sarò vestita a fiori in onore al festival di sanremo a cui non sono mai andata e qui con me lisa bernardini grazie grazie per questa esclusiva allora grazie dell'invito è un'esperienza curiosa perché di solito io sono dall'altra parte anche io come sai nasco cantante e quindi dall'altra parte si sta tra virgolette più comodi te lo posso dire probabilmente sì no no vedrai vedrai che sarà molto molto semplice allora ho detto bene che tu arrivi da follonica nel senso che sei nata a follonica ho vissuto 18 anni 18 anni a follonica che è una zona per me quasi sconosciuta nel senso che non conosco bene quindi che come si vive a follonica è una ridente cittadina sul mare molto graziosa bel mare belle vacanze si fanno a follonica si molto popolata e invece da da residente come si sta perché dici vacanze quindi la intendi perché adesso io in effetti quando vado a follonica ci vado un po da turista ormai sono tantissimi anni che sono nel lazio dal 1993 tu lo sai che sei qui perché noi racconteremo la tua vita professionale privata attraverso fotografie canzoni e mi hai portato anche questo libro che è scritto da poco fallo già vedere così intanto la cominciamo a far vedere anche se lo presenteremo magari nel corso della della puntata e allora io chiederei alla regia di partire subito gli avevo messo una foto la prima foto e una canzone contemporaneamente perché ti ho sentita così diciamo non non so se t'ho immaginata bene sentiamo il primo brano e che lasciamo questa fotografia mi sono sempre detto troverai mi hanno sempre detto troverai come mai hai scelto questa canzone allora c'è una cosa che pochi sanno perciò dobbiamo dire c'è una cosa che pochi sanno quasi nessuno perlomeno il mio ambiente di lavoro allora io ho avuto una cover di Gianna Nannini nel senso ho fatto proprio la cantante quando ero più giovane e quindi avevo una cover di Gianna Nannini io sono toscana per cui Gianna Nannini è una cantante ovviamente a me molto cara e poi rock insomma cioè tu hai interpretato una canzone no io facevo proprio la cover la cantata perché in realtà no un po' ci può stare no per questo ti dico che è una nozione veramente privata quindi avevi una cover band dai ma questo è uno scoop che non ho mai nemmeno scritto quindi non lo potevo nemmeno trovare no infatti me lo stai facendo dire ma non lo sa quasi nessuno e qual era il repertorio così capiamo l'anno il repertorio è proprio quello classico di Gianna Nannini di suoi più grossi successi fino a un po' di anni fa io della Nannini cantavo profumo voglio il tuo profumo perché era una canzone meravigliosa poi l'avevo resa più teatrale perché comunque America è ovviamente un caposaldo della discografia ma tutti gli artisti a cui tu hai fatto anche da ufficio stampa questa notizia la sa? no non la sa nessuno mi sto rovinando invece è una bella cosa e poi perché hai abbandonato il canto? ma perché sono esperienze che si fanno da giovani comunque per cantare Gianna Nannini non è proprio cosa semplice quindi devi avere per forza un timbro di voce particolare ma io ho studiato anche canto quindi a maggior ragione però soprattutto ero un amante del rock e quindi beh tu sei ancora un po' rocchettata vedi jeans io vesto sempre in maniera molto semplice e sportiva e quindi poi animalier perché io sono fissata di questo tessuto ultimamente sta andando per la maggiore ma io l'ho sempre amato anche quando probabilmente era un po' demodè come io con i pois io ho tutto l'armadio pieno di pois se vuoi un po' venite a me tutte poi due o tre anni fa per fortuna è tornato e quindi lì proprio ho dato una mazzata mi basteranno io proprio adoro, adoro questa stoffa e niente ho fatto questa esperienza questa cover band di cui ho cancellato tutte le tracce pubbliche non la sa nessuno no non si fa questo adesso però l'abbiamo detto bisogna fare una reunion però ti dico come si chiamava la mia band Mosca cieca con le due K Mosca cieca ma dai e ce l'avevi a Follonica? no no ce l'avevo nel Lazio ero già venuta nel Lazio quindi addirittura sì sì già avevi lasciato la terra ma l'ho tenuta per tanti anni ma guarda che scoop e poi sì e poi vabbè chissà cosa uscirà ancora in questa intervista in questo racconto cosa mi farai dire? in questo pomeriggio in salotto vediamo un'altra fotografia così andiamo a sbirciare la prima c'era un tatuaggio perché io sono amante dei tatuaggi e questa è una foto penso che forse avevo 36 anni qua 35 quindi l'anno scorso no molti anni fa hai detto che con le date non sei come ti hai detto prima no però qui mi ricordo perché questa è una foto che mi ha fatto un un fotografo italiano che vive in Svizzera o in Germania non ricordo Gianmarco Varrone ed era un servizio dove io imitavo diciamo dei personaggi noti qui imitavo la Ferilli tu figlia mia però ce l'hai per vizio allora prima la Nannini poi la Ferilli quindi stavi facendo un cover servizio no era un così un dei ritratti che voleva farmi il fotografo e avevamo studiato un po' queste pose quindi tu parti da Follonica e vieni a Roma sì vieni a Roma per quale motivo? ma vengo a Roma per studio e poi ci rimango per amore per studio? che studio dovevi fare? nel senso all'inizio c'era un corso radio televisivo di giornalismo quindi tu già volevi fare questo? mi attraeva in effetti il mondo poi vabbè ho fatto l'università tra l'altro non l'ho neanche completata nonostante fosse una secchiona pazzesca avevo la media del 30 però poi sai vicissitudini della vita insomma ti costringono a prendere altri percorsi per cui ho fatto più di metà percorso universitario sociologia vabbè noi siamo in università quando voi possiamo sempre riprendere mi sembra giusto tanto guarda non esiste un'età massima no no anche perché poi tra l'altro l'ho ripresa io l'università da adulta però poi sai quando hai famiglia hai figli certo non è la stessa cosa non hai la testa sgombra però magari sei più deciso nel senso hai più concentrazione ma infatti io ero bravissima il problema è trovare il tempo di fare gli esami perché tra il lavoro la famiglia insomma vabbè è un sogno così che non è per studio e invece poi ci rimani per amore sì sì vuoi sapere eh no tu me l'hai detto quindi scusa mi vai a toccare questo tasto ma diciamo che allora ho avuto una convivenza molto presto sempre con questo amore qui no con un altro amore con un precedente amore ho avuto una convivenza di cinque anni come mi fa piacere farmi i fatti degli altri mi sento molto capera sai a Napoli capera cos'era la parrucchiera che andava a casa delle persone e mentre parlava inciuciava un po' pure no e volevo sapere i fatti e siccome tu sei un personaggio conosciuto hai più hai addetti ai lavori anche agli artisti che si servono anche del tuo lavoro come ufficio stampa e giornalista infatti è strano per me trovarmi qua oggi però magari proprio perché fai questo lavoro un po' dietro le quinte di te si sa poco e niente e quindi ma a livello privato sicuramente allora adesso spoileriamo tutto hai avuto questa convivenza lunga sì e poi niente ho trovato il grande amore il mio attuale marito insomma e quindi e tu già mi sei mai portato hai avuto la convivenza io sono per chiudere tagliare non rivelare la convivenza lunga e poi l'abbiamo chiusa chiaramente e hai incontrato il tuo attuale marito sì sì dove vi siete incontrati in un campo lavorativo diciamo ci siamo incontrati perché lui si occupa di? no lui si occupa tra l'altro un mondo molto diverso dal mio di edilizia quindi è un agente di commercio hai incontrato in una casa? no io ho lavorato per alcuni anni perché non ho fatto un cantiere? no non ho fatto subito la giornalista ho lavorato in un ambiente maschile che era quello dell'edilizia a livello di ufficio no no a livello di ufficio e ci siamo incontrati quindi organizzavi buste paga tutte queste cose qua contabilità sì contabilità lavori di segretariato diciamo di ufficio e lì non avevi ancora la cover band no quindi l'hai avuta da sposata la cover band oh madonna mia che cosa sta scendo fuori vabbè interessante sì quindi insomma vabbè quindi hai conosciuto tuo marito vi siete innamorati sì vabbè lui aveva insomma già in crisi anche lui con la sua storia io in crisi con la mia e poi vabbè insomma da due crisi è nato un amore sì a Roma a Roma che zona che zona a che ora no a che ora non lo dico che zona quindi non ricordo neanche dove fosse l'ufficio nell'ambito lavorativo vi siete incontrati sì ci siamo incontrati nell'ambito lavorativo ti avete un ufficio e ti hai conosciuto come è successo era un fornitore di questa azienda dove io lavoravo e niente e vedi oggi vedi domani la parola oggi non caffè è una cosa come stai? stai bene? che bel sorriso è successo e vi siete sposati? siamo sposati anni dopo anni dopo io mi sono sposata da adulta nel 2001 il giorno dopo l'attentato alle torri gemelle quindi 12 settembre 2001 quando avevamo già un nostro figlio che aveva tre anni andiamo con una foto così vediamo adulta sei adulta questa è la mamma questa è la mamma la mia mamma sì che abita questo è mio marito e mio figlio ecco questa è la famigliola che sta insieme che bella e questo è tuo figlio questo è mio figlio piccolino sì come si chiama tuo figlio? Davide Davide e quindi lui vi ha portato l'altare come è funzionato? lui ha portato le fedi sì e praticamente mi ricordo che insomma c'è stato un grande affare per tenerlo fermo perché è sempre stato un un bambino vivace e niente quanto aveva lui nel 2000 lui è nato nel 98 il 17 marzo e quindi aveva tre anni era piccolino sì era piccolino sì possiamo rivedere la foto con la mamma gentilmente che la mia mamma sì che abita ancora a Follonica tu ci vai spesso a Follonica no ci vado poco ci vado poco perché impegni di lavoro in effetti impediscono di andarci spesso però sono sempre in contatto telefonico quotidiano più volte al giorno con mia mamma e tu hai sorelle fratelli? ho un fratello di sei anni più grande che abita lì vicino a 40 km quindi si occupa lui di mamma che mamma adesso sarà grande di età mamma ha 83 anni sì è rimasta vedova e quindi sì c'è lui diciamo durante la settimana ci va a pranzo perché lavora a Follonica anche se vive a racquastrada è sposato mio fratello con due bambini e e abita a 40 km però insomma lavorando a Follonica perché è un a un'azienda che si occupa di rimessaggio motori barche eccetera e tutti i giorni dal lunedì al venerdì in genere vado a mia mamma a pranzo sì quindi è lui che la controlla un po' di più quindi al lunedì al venerdì puoi vedere le emigranti a quest'ora è perfetto dici mamma dal lunedì al venerdì mi raccomando mamma lo sa tutte queste cose che stiamo dicendo no assolutamente no la cover band lo sa la cover band lo sa però insomma mi sembra una cosa peccaminosa andiamo con l'altro brano che hai scelto e mi dici poi perché l'hai scelto voglio farti un regalo qualcosa di dolce qualcosa di laro non un comune regalo di quelli che hai perso mai aperto lasciato in treno o mai accettato come mai hai scelto questa canzone di Tiziano Ferro perché in realtà mi ricordo che Tiziano Ferro quando lo sentivi la prima volta fu nel suo rosso relativo e mi colpì da morire subito la voce di Tiziano Ferro penso che sia un poeta quindi le sue canzoni mi piacciono tantissimo questa in particolare non so perché ma c'è tante parole non so perché mi piacciono questa in particolare ma c'è tante parole sono anche parole significative di solito le canzoni ultimamente sono non so non voglio andare poi voglio dire sono rocchettara però quando poi trovo una melodia italiana che mi piace è legato a un momento particolare ma forse sì però è proprio la canzone che mi fa riflettere il testo mi piace sì è una canzone che adoro arriviamo a Roma ti innamori ti sposi oggi mi sto inguaiando a un certo punto vai a vivere però da un'altra parte molto dopo molto dopo vai a vivere da un'altra parte no o meglio è il mio il mio marito che se ne va a vivere da un'altra parte da solo perché ci siamo separati a un certo punto ti sei separata e ti sei risposata con lo stesso uomo non mi sono mai non ho mai divorziato mi sono separata legalmente c'è stata una crisi diciamo abbastanza profonda che poi si è ricomposta perché qualche volta le storie d'amore finiscono bene insomma posso farti una domanda personale che però magari può aiutare tante persone a casa perché parliamo di un argomento che sembra a volte uno ci gioca anche su perché non si può essere sempre pesanti facciamo anche una sorta di spettacolo ecco ma come si fa a trovare tanto un equilibrio e poi magari a tornare addirittura insieme che cosa proprio difficile cioè pochissime coppie tornano insieme guarda io guarda io in effetti se non mi fosse capitato avrei detto che non sarebbe stato possibile però in effetti se c'è del diciamo una vita trascorsa insieme del sentimento in effetti qualcosa che magari si è rotto per vari motivi no però poi resta un sentimento si può ricostruire non è facile forse è rarissimo ma c'è un segreto cioè il trucco qual è ma il trucco non lo so qual è a me è capitato non è stato facile se possiamo salutare una coppia a casa ma non perché io credo che quando le cose si rompono si rompono per carità però magari a trovare anche quell'equilibrio diciamo è un equilibrio diverso eh esatto equilibrio diverso forse perché si cresce io ero sai insomma ho incontrato mio marito era veramente giovane avevo 23 anni poi sono andata subito insomma a 25 oggi ne ho quasi 53 a luglio e questa crisi è avvenuta oltre i 40 anni miei lui è più grande di 10 anni e insomma a un certo punto non ha più funzionato per vari motivi e però poi magicamente con il tempo questa rottura si è ricomposta e devo dire che ci ha fatto benissimo perché i nostri problemi che avevamo prima in realtà li abbiamo risolti con questo stacco si può dire che le stesse persone che si incontrano hanno cresciuto perché poi uno ha il tempo ti fa crescere non a tutti però diciamo se uno segue la scia della vita che va avanti e si matura probabilmente si trova un altro tipo di amore un altro tipo di equilibrio cioè il sentimento è sempre forte però forse ci sono meno illusioni meno c'è un po' più di disincanto e un po' più di realtà ecco il sogno perfetto non esiste probabilmente esistono due persone vogliono stare insieme hanno chiaramente degli argomenti in comune un sentimento che li unisce quindi a noi perlomeno è riuscito di ricomporre questa coppia come si dice che ogni tanto qualcosa qualche ciambella riesce col burro però non ci avrai mai scommesso questo è un regalo della vita è stata una lezione anche per te una lezione ma anche un regalo un regalo della vita perché a volte uno dico sempre che chi non conosce si ha paura dello sconosciuto dell'ignoto se qualcosa non la conosci non la sei giudica e dice no vabbè non si può fare perché a me non è capitato invece secondo me bisogna sempre lasciare una porticina aperta e comprendere le diverse come dire le diverse idee degli altri io credo che abbiamo fatto bene a tutti e due questa separazione questa rottura traumatica tra l'altro perché comunque insomma io credo che non se lo aspettasse né lui né io a un certo punto insomma non ha più funzionato e adesso funziona quindi lui era andato a vivere da un'altra parte e tu eri rimasta a Roma no no ma anche lui no ad Anzio in realtà lui era andato a vivere ad Anzio e tu tutti e due vivevamo ad Anzio ah quindi già tu avevi lasciato Roma e eri andata ad Anzio sì e abitavate vicino no abitavamo nella stessa casa ad Anzio ah poi ah beh quindi insomma eravate separati abitavamo nella stessa casa alla fine no no quando ci siamo separati lui è andato via però già allora abitavamo ad Anzio perché Roma e quindi avevi lasciato Roma e eri ad Anzio quindi la tua vita si è sviluppata ad Anzio e tu fai sempre avanti e indietro comunque con Roma perché comunque Roma rimane sempre soprattutto il tuo luogo di lavoro dove hai tanti interessi sì sì perché ho diciamo l'ufficio alla stampa dentro la stampa estera quindi spessissimo vado là sì e poi bene o male sto sempre a Roma andiamo con un'altra foto eccolo questo è il momento del ritorno no questa è una festa veramente bella a cui abbiamo partecipato a Firenze come si chiama questo ragazzo l'abbiamo detto Marco Marco quindi Marco se n'è andato e non ritorna più non è vero no poi è ritornato perché Marco in questo caso è ritornato sì a proposito di Sanremo è una bellissima festa a cui abbiamo partecipato un po' di tempo fa non neanche troppo forse un paio d'anni fa un anno e mezzo fa così e a Firenze dalle regie ci dicono cinque anni fa perché tu non hai no perché ecco vedi io non ho proprio il senso del tempo prima dopo durante tutto si mescola un po' questo proprio magari ti è servito anche per tornare con lui perché non hai idea del tempo un altro avrebbe detto sono cinque anni sono sette anni no noi sì sono stati due anni e quindi il vostro figlio è stato contento sì di che cosa si occupa tuo figlio mio figlio è un bartender quelli sai che fanno i cocktail inventano eccetera e sta cercando la sua strada ovviamente è giovane è giovane ha 25 anni il prossimo mese sì però insomma lavora non vuole seguire la tua strada no però è molto creativo lui è molto creativo quindi fa delle sarà che sono poco obiettiva comunque insomma fa delle dei degli shots sai quelli che si bevono no sì io guarda lui fa delle opere d'arte che sono mi parlano di aperiscina cose di drink zero qualche volta che mi è successo io mi ubriaco su cioè non reggo quindi ho solo vino rosso e anche diciamo di certi gradi lo reggo bene tutto il resto non lo reggo bene no lui è molto molto bravo molto creativo e poi sta cercando insomma la sua strada anche a livello di di social media marketing si sta interessando un po' di tutte queste cose che hanno a che fare con professioni attuali moderne no che i giovani sono molto più addentrati di noi e quando diventi giornalista? qualche anno fa ah quindi è una cosa più recente però tu già no già io ho sempre scritto ho sempre fatto ho sempre organizzato e quindi diciamo il percorso com'è? prima sei diventata organizzatrice di eventi? sì sì ho sempre avuto dal 2011 che io ho questa associazione culturale che come si chiama ripetiamolo occhio dell'arte un'associazione di promozione sociale mi sono sempre occupata di cultura solidarietà belle cose teatro musica cinema poi di fotografia perché parleremo magari anche di questo io vengo dalla fotografia e poi si a un certo punto insomma è normale prendere un percorso canonico insomma il cosiddetto tesserino eccetera sì che ai fini pratici cambia poco però no ai fini pratici cambia poco ma ai fini sostanziali è corretto è corretto è percorso che ho fatto anch'io e lo capisco però poi dico anche che ai fini pratici servono a poco vogliamo intanto far vedere un'altra volta il tuo libro perché mi fa piacere farlo vedere ogni tanto così magari ne riparliamo anche dopo però parliamone adesso tu ce l'hai Peter Pan a punti di viaggio in un tempo difficile e mi fa diciamo è l'occasione per parlare di questo tempo difficile che è stata la pandemia il libro è uscito l'anno scorso giusto è stata la pandemia che per me è veramente presentato il 5 maggio se ricorda alla stampesta la prima volta sei informatissima con le date no ma io giusto perché questa è recente di data altrimenti no anche per dire dove lo possiamo trovare insomma allora questo si trova in tutti i principali dal non lì così perché lo faccio vedere alla telecamera dai in tutti i principali canali store online compreso Amazon quindi si può di che cosa parla dicevo la pandemia la pandemia per me è stato un un momento veramente drammatico per tutto il mondo per carità però poi ci sono persone che hanno probabilmente più accusato questa tragedia e io sono stata una tra quelle cioè a livello mentale sono ho veramente perso la rotta e qui mio marito è stato fondamentale mi ha dato un equilibrio che io avevo perso e a un certo punto mi sono attaccata non potendo uscire questo dramma improvviso che ha sconvolto il mondo mi sono messa a scrivere a fare quello che sapevo fare quindi questo è un libro nato durante la pandemia sì se non ci fosse stata la pandemia e qui torna il discorso delle difficoltà come risorse o come diciamo opportunità se non ci fosse stata la pandemia non l'avrei mai scritto è un libro di interviste di chiacchierate domande e risposte molto atipico anche nello stile dove praticamente ho selezionato 17 incontri tra tantissimi che ho fatto in questi due anni di diciamo di pandemia e tra momenti di apertura chiusure e quant'altro inizio a settembre del del 2019 la prima intervista con Dario Ballantini la prima chiacchierata telefonica chiaramente no lì c'era stato c'era stato praticamente un incontro uno spiraglio sì uno spiraglio e poi nel 2021 a dicembre l'ultima intervista e in questo arco di tempo 17 incontri perché è il mio numero preferito è il giorno in cui è nato mio figlio in questo arco di tempo io così narro questi incontri cerco nelle storie degli altri questo Peter Pan che è un po' il fil rouge conduttore delle mie chiacchierate perché cercavo la voglia di evadere il sogno il Peter Pan buono non quello che che è il responsabile ma quello che vuole sognare che si rifugia nel gioco nel 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 è stato un momento di evasione anche perché è stato intervistato ma anche lì esattamente come stai facendo tu con me che mi stai tirando fuori cose inedite sono riuscita in qualche modo a tirar fuori a loro situazioni ma sai che tu lo saprai perché non ti dico niente di nuovo non sono io che ti tiro fuori cose sei tu ma è l'ambiente è un bello studio una bella trasmissione succede che nella chiacchierata tu mi parli e io posso solo come dire accogliere quello che tu stai dicendo ma sei brava tu che hai preparato un bel piattino allora vediamo se questa cosa che mi vuoi dire adesso lasciamo tutti un attimo così sospesi ci vediamo subito dopo la pubblicità eccoci tornati in studio io sono Gio Di Sarno mi trovo con la mia immigrata di oggi che è Lisa Bernardini e qui ho il suo libro in mano tu ce l'hai Peter Pan appunti di viaggio in un tempo difficile a proposito Gio di questa cosa che dicevo che non mi ricordo bene le date prima ho detto una data inesatta perché in effetti ho parlato di settembre 2019 ma è settembre 2020 la prima intervista perché può succedere se uno poi con le date soprattutto non ci sta no no ma è proprio una mia particolarità spesso magari l'hai proprio rimosso anche perché sai siccome è stato un tempo come è scritto giustamente difficile magari uno tende anche a rimuovere delle cose sì questo sicuramente però è proprio una mia particolarità io non ricordo a parte fatti magari recentissimo date importanti tipo la nascita di mio figlio il mio compleanno quella te la ricordi? come? la nascita di tuo figlio te la ricordi? sì quella sicuramente vedi sei già avanti tendo ecco a fare confusione un po' sui periodi quando come non ricordo non mi piace fissare molto le cose mi piace più ricordarle viverle senza tempo senza cornice e io per oggi sono costretta a farti ricordare andiamo con un'altra foto così devi ricordare per forza sì questo è un appuntamento di lavoro che ho avuto in la presentazione del calendario 20-20 delle forze armate femminili per i vent'anni dall'ingresso appunto delle donne nelle forze armate e in Basilicata hai curato anche l'ufficio stampa sì l'ufficio stampa l'evento sì come funziona il sindaco di Francavilla insieme vogliamo spiegare eccola là mentre cantavi io pensavo fosse tipo un karaoke no 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 non era un karaoke invece ma guarda che rocchettara con i jeans qui è una festa di piazza mi sei l'aperto ma questa era oddio era un evento non ricordo dove però era un concerto sì era un concerto totalmente tuo sì e che è anche difficile tenere un concerto totalmente diciamo che su un artista con quel tipo di voce c'era un repertorio dai sempre quello ma quanto mi dispiace non avere adesso qui un pianoforte una cosa per farti cantare no ma non non ci sarebbe stato pericolo non avrei cantato se vuoi fare qualcosa a cappella io sono qui ti faccio i cori no no lascio cantare te che sicuramente no io qui non canto sono un'altra veste vabbè però tu sei cantante vogliamo spiegare alle persone che ci seguono da casa che magari non sanno cosa fa un ufficio stampa perché poi sappiamo che nella capitale soprattutto è pieno di uffici stampa 99% bisogna diciamo togliere l'ufficio stampa non è un lavoro io è un lavoro che amo però non è facilissimo perché in effetti siamo come dicevi tu in tanti bisogna avere tanta pazienza insomma star dietro l'ufficio stampa un ufficio stampa vuol dire tante cose non è solo curare la parte della stampa spesso tu facendo anche eventi curi anche tutto quello che c'è dietro sì sì l'organizzazione proprio dell'evento poi seguendo alcuni personaggi ovviamente li seguo anche magari da un punto di vista di pubbliche relazioni di situazioni più legate alla loro professione è un ufficio stampa un po' allargato il mio cioè sono un po' multitasking quindi la giornata tipo com'è? ma non è che una giornata tipo perché le mie giornate fortunatamente sono molto varie però tra appuntamenti di lavoro telefonate articoli perché comunque sono anche corrispondente alla stampa estera di una rivista francese per gli italiani in Francia quindi ho da fare insomma ho da scrivere ho da seguire situazioni telefonate il telefono è sempre il mio compagno fedele uno solo sì uno solo un telefono sì sì basta e avanza e poi sono iper collegata tra social mail io non ho orari non ho orari in effetti andiamo con un'altra fotografia per conoscere più da vicino ecco questo è uno dei miei intervistati Michele Torpedine il produttore discografico del volo e la gente insomma quello che li ha qualche mano scoperti qui eravamo a Bologna nel suo studio Michele Torpedine è una delle interviste del mio libro e niente è un personaggio che mi ha colpito intanto perché si è lasciato andare molto mi ha confidato insomma che cantava no cose particolari che aveva che aveva anche detto nel suo libro ricomincio dai tre che è il motivo per il quale lo avevo intervistato però non lo so si è lasciato andare si era creata un'atmosfera molto familiare lui ha sentito che io ero veramente favorevole all'ascolto e quindi si è aperto un po' come sto facendo con te tu mi hai incastrato oggi in maniera perfetta quello è uno degli ingredienti la disponibilità all'ascolto perché tu puoi anche parlare ma dall'altra parte c'è solo una persona che deve fare un programma oppure c'è una persona che oltre a fare il programma vuole apprendere perché quello che dicevo proprio oggi questo programma mi sta facendo crescere tanto perché ogni giorno incontro una persona diversa con un'esperienza lontana magari da me anni luce anzi più sono lontana e più sono contenta perché apprendo altre cose e si cresce e questo secondo me quello che hai fatto tu qui è stata una crescita però ti sei anche lasciata andare forse ti sei allontanata da quel buio di questo momento poi lo sai non mi sono lasciata guidare dal mestiere in che senso nel senso che ho fatto veramente delle chiacchierate come si potrebbero fare in questo salotto o al bar o dentro casa ho lasciato un po' da parte l'intervista di mestiere per lasciarmi andare a chiacchierate di ascolto da parte mia e di confessione da parte del mio interlocutore e quindi è uscito fuori un mood che si avverte molto particolare molto intimo che ha fatto uscire fuori delle essenze nascoste questo Peter Pan è venuto fuori in maniera naturale poi in ogni capitolo del libro c'è una frase del mio interlocutore che riassume un po' la stazione comune del percorso che abbiamo fatto in quella chiacchierata e poi ci sono le altre stazioni delle altre chiacchierate che formano il firrugio del Peter Pan che lega diciamo ti ricordi tutti no non me li ricordo tutti però se tu mi dici dei nomi mi ricordo la chiacchierata nel momento sono tante nemmeno io li so guarda il primo è Dario Ballantini l'ultima è la sorella di Barbara D'Urso Daniela una blogger una produttore però li possiamo andare a cercare magari mandiamo una foto così mentre la foto va io vado a vedere chi ci sta qui ecco questa è un'esperienza che ho fatto l'anno scorso bellissima con Claudia Simonetti di cui curo le vicende stampa professionali eravamo al festival di Sigis in Spagna e lui ha vinto un premio molto molto importante il gol de Melier alla carriera e tra l'altro il festival di Sigis è famoso per essere il secondo al mondo nel genere horror e fantasy che ovviamente è la musica di Claudio Simonetti che tutti conoscono da Profondo Rosso Suspiria Tenebre e quant'altro tutti i più grossi successi legati ai film di Dario Argento ad esempio e lui ha vinto questo gol de Melier alla carriera è stata una notte tipo notte degli Oscar cioè io non avevo mai visto una serata così bella e quindi ho gioito per lui perché è un artista straordinario e a livello personale mi sono goduta una serata bellissima veramente che non pensavo di... C'erai mai stata in Spagna? No no sì in Spagna sì non ero mai stata a Sigis e non sapevo che lì c'è quel festival lì cioè sì ne avevo sentito parlare ma vederlo poi dal vivo cioè un contratto star hollywoodiane come gli Oscar la notte degli Oscar sì sì guarda veramente molto molto emozionante bene andiamo con un'altra foto ecco questa è recente ed è una delle interveste a cui tengo di più perché l'ho fortemente voluta grazie poi al mio intermediario che è Renzo Mario D'Ambrogi che ringrazio è stato per una ventina d'anni il general manager della Maison Gucci ho potuto incontrare Allegra la figlia di Maurizio Gucci che ovviamente tutti sappiamo insomma che è l'episodio di cronaca tragico di cui è stato protagonista e Allegra ha scritto questo libro bellissimo fine dei giochi la sua verità finalmente dopo tanti anni dove racconta le vicende della sua famiglia l'omicidio del padre l'arresto della madre come mandante di questo omicidio insomma tutta questa vicenda mettendo una volta per tutte fine alle chiacchiere e a questo parlare intorno alla figura come persone intanto è una donna bellissima è veramente molto bella Allegra e poi non deve essere facile convivere con quello che è successo io ho ascoltato la sua storia comunque da qualsiasi lato tu la voglia vedere lei ha scritto questo libro che veramente lo consiglio è stato molto venduto e ha ragione perché veramente molto ben scritto e ho ascoltato anche in questa nostra intervista la sua storia dalla sua viva voce e mi ha colpito mi ha colpito perché una donna ha tanto sofferto quindi ripeto non deve essere facile comunque insomma è un dramma importante andiamo con una canzone sì così vediamo un po' mi dici perché l'hai scelta penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa cara Gianna il tuo collega eh sì Renato questa è la canzone simbolo del mio matrimonio quindi che torna che ritorna sì nel senso che ogni volta che ascolto questa canzone questi sono i vostri migliori anni? ma spero che i prossimi siano ancora migliori di quelli che abbiamo passato io sono una che progetta sempre intanto viviamo pure il presente sì sì questo fatto che poi devono venire le cose il presente è la cosa più importante sì assolutamente però sono anche una che pensa che la vita sorprenda continuamente e quindi il meglio deve ancora venire questo è il mio motto ti sarà capitato mai di fare dei progetti così precisi tecnicamente perfetti e poi è arrivato un evento che è naturale che te li ha sconvolte? sì sì assolutamente no bisogna essere aperti alla vita che può interrompere un progetto ma può aprirti le strade più isperate che magari sono ancora migliori di quelle lasciate alle spalle andiamo con un'altra fotografia e questa è la stampa estera ma che bella questa foto mi è piaciuta molto infatti ci ho fatto anche una locandina sì ho visto per promuovere questo nostro incontro ah e qui vabbè qui allora si apre un discorso che ha fatto parte della mia vita per tanti anni e che tuttora ne fa parte la fotografia Franco Fontana Olivero Toscani qui eravamo ad una delle posso dire per esempio per esempio perché abbiamo detto due nomi a caso sì no Franco Fontana è il mio maestro il mio maestro non solo di fotografia ma di vita cioè nel senso è proprio una persona che fa parte dei miei affetti mi ha insegnato tantissimo mi ha regalato mi ha regalato tante opportunità e poi soprattutto è una persona con cui ho uno scambio anche quotidiano se vogliamo di whatsapp buonanotte buongiorno quindi quasi famiglia sì sì per me Franco fa parte dei miei affetti è un grandissimo artista un grandissimo uomo e lui sua moglie insomma ha avuti c'è proprio un legame importante nella mia vita con Franco perché tu con la fotografia che legame hai nel senso io ho iniziato come fotografa ho iniziato come fotografa che continuo ancora ogni tanto è un modo di guardare il mondo la fotografia l'occhio fotografico se ce l'hai ce l'hai anche nella vita quindi io guardo il mondo da un oblo? no a modo mio a modo mio e diciamo da prospettive particolari che sono quelle un po' che la fotografia ti ti aiuta ad avere prospettive angoli di visuale di mondo e l'hai lasciata adesso la fotografia io ogni volta che posso la pratico però non ho più tempo ovviamente per fare mostre personali eccetera ogni tanto quindi hai fatto anche mostre personali sì sì anche in America e diciamo in Italia con quelli di Franco Fontana che sono questo gruppo di alunni tra virgolette scelti del maestro abbiamo fatto tante mostre con lui quindi quelli di Franco Fontana sì però Franco è proprio un personaggio straordinario cioè io auguro a tutti di incontrare un Franco Fontana nella propria vita vediamo un'altra foto beh sì questo è un momento professionale che ricordo volentieri perché è stato un premio alla carriera in un festival che organizzavo io che ho dato a Maurizio Costanzo con la collaborazione dell'università La Sapienza di Roma è stato un momento importante penso che fosse il 2013 la cosa del genere lasciamo stare con le date abbiamo capito che non è il caso no però penso sia stato il 2013 2013 o 2014 quindi eviterei però forse abbiamo un'altra canzone se la regia gentilmente ce la manda così mi dici perché hai scelto questo brano io così sai non ti ho vista mai splendida come tu adesso sei che brano cosa c'è che interprete ma tutto qui è il brano è l'interprete è tutto adesso da quando la figlia sta facendo questo talent è uscita lui è in qualche modo è tornato manco una voce unica anche per chi non diciamo i giovani che non lo conoscevano hanno avuto l'opportunità di conoscere una voce unica strepitosa i testi musica io sono sempre stata la personalità sono sempre stata una sua fan poi vabbè Mona Lisa che è il titolo di questa canzone chiaramente insomma non poteva non colpirmi quando uscì e ogni volta che ascolto questa canzone ripenso a questo grandissimo artista morto sul palco che se ne è andato con la delicatezza la gentilezza la signorilità con cui si è sempre manifestato pubblicamente un artista meraviglioso unico in questo salotto è uscito spesso lui e anche Pino Daniele tantissimo tutti i napolitani che arrivano qui chiaramente mettono Pino Daniele sono due artisti secondo me per farmene un po' una ragione perché a volte su certe morti soprattutto di Pino Daniele che mi appartiene di più forse sono stati artisti che hanno dato talmente tanto hanno prodotto Daniele ha prodotto talmente tante cose che forse il suo percorso terreno si era esaurito sai non lo so io non so se credere o no dall'altra parte che ci sia qualcosa o meno a volte i dubbi ce li ho però insomma chi produce tanto soprattutto i primi anni si pensa che a vent'anni ha scritto quello che ha scritto e lo stesso vale anche per Mango insomma è uno che ha scritto da giovanissimo no ma poi una voce talento una voce una voce inarrivabile inimitabile c'è qualche artista italiano straniero che vorresti avere nella tua scuderia no è chiaro diciamo però proprio che dici quello sarebbe giusto per me ma no io penso che sia bello seguire chiunque abbia qualcosa che a te piace e in cui credi io non seguo nessuno in effetti che non abbia la mia stima la mia completa ammirazione quello certo però magari qualcuno ce non riuscirei lontano che sa da un'altra parte del mondo che proprio ti piace cioè io vorrei lavorare con Ospetec per dirlo ho anche incontrato timidamente al suo compagno ho detto una mezza cosa ma volevo morire sono vergognata da morire perché dico ma che cosa sto facendo che cosa sto dicendo anche perché sai gli incontri di lavoro sono una cosa sicuramente Vasco Rossi voglio dire sono rocchettara di anima diciamolo in questo senso perché tu sei rocchettara di anima sì anche se poi ho questa vena melodica che continuo a coltivare anche perché non mi hai scelto un brano rock tra l'altro no solo America no io ho una vena melodica che mi piace continuare a coltivare però se devo confessarti il rock di tutte queste anime che sono venute fuori quindi la cantante perché evidentemente in te c'è la fotografa la fotografa la scrittrice perché un libro comunque è uscito fuori vabbè sai questo ha più a che fare con il giornalismo però insomma la giornalista è un'altra cosa ma sai non lo so io pure qua insomma bisogna essere un po' più no non saprei scrivere un romanzo lo confesso non mi piace mi piace leggere magari un romanzo ma scriverlo non saprei comunque una cosa l'hai scritta sì no ma ne sto scrivendo anche un'altra però ha sempre a che fare con il mio lavoro senti ma in tutte queste di tutte queste anime quale ti appartiene di più ma sono in ognuna di esse sono molto ibrida mi piace la contaminazione artistica la contaminazione culturale io anche con l'associazione vado sempre a esplorare altri mondi altre culture che penso che poi sia il bello di fare questo mestiere sì ma è il bello proprio di conoscere la vita la vita è fatta di diversità senza curiosità ma che vita è però magari chi non è curioso non lo sa nemmeno chi non è curioso non mi spaventa non soffre non mi spaventa l'alterità per usare un termine in sociologia molto caro non mi spaventa l'alterità perché l'alterità è risorsa quindi bisogna sempre imparare a guardare fuori dal proprio orticello tornando a Follonica noi siamo partiti da Follonica perché questi immigranti il percorso l'immigrazione si va da una parte all'altra torneresti a vivere lì? no no perché ci torno volentieri in vacanza infatti tu prima hai detto la prima cosa vedi una psicologa avrebbe detto questo vuol dire che non vuoi più tornare perché già l'hai data come vacanza prima no hai detto è un bel luogo anche meno come si suol dire anche viaggi più brevi che non siano vacanze toccate e fuga fine settimana sì però no vivere no no perché è proprio non mi calza più addosso ormai sono passati troppi anni non conosco più nessuno insomma la vita è andata oltre e invece di andare in un posto diverso da quello in cui vivi? ma guarda vivrei bene all'estero mi attira molto la Spagna ad esempio o anche Nord Africa perché io sono innamorata dell'Africa e quindi non dico l'Africa nera non ci vivrei probabilmente perché insomma sono comunque un occidentale quindi ho purtroppo dei difetti anche di comodità però l'Africa mi piace il clima africano il deserto Tunisia Marocco forse ha a che fare con quello che stai dicendo perché ricordo adesso vagamente le foto anche io mi si intreccia un po' il pensiero vediamo che cosa c'è questo è un cliente che ormai è diventato un amico fa parte dei miei affetti veramente è uno scrittore Marco Tullio Barboni un sceneggiatore e scrittore molto bravo che seguo da tanti anni e che mi ha fatto scoprire tutto il mondo legato al cinema del papà quindi lo chiamavano Trinità tutti perché lui è il figlio di Big Looker tutto il cinema che non c'è più quindi i racconti dei suoi incontri con Totò piuttosto che la Loren piuttosto che i grandi divi oddivodiani che ha avuto modo di conoscere grazie al papà insomma sono innamorata dei racconti di vita di Marco Tullio Barboni che poi è un ottimo scrittore senti in un altro universo come si suol dire hai respirato un'altra aria ed è diventato amico tu anche lui sì nel senso abbiamo dei rapporti di lavoro ma sicuramente Marco Tullio Barboni fa parte delle persone a cui voglio bene prendi un personaggio come Ufficio Stampa poi diventa qualcosa di più ma quando no quando segui una persona la stimi come io stimo ad esempio Marco Tullio Barboni o Claudio Simonetti quando segui una persona da tempo inevitabilmente poi se c'è sintonia c'è armonia nel lavoro si creano delle situazioni anche perché spesso magari ti trovi a consigliare delle cose quindi diventi anche una confidente no no ma anche loro diventano persone a cui chiedi dei consigli diventa un dare avere vediamo se c'è un'altra foto è forse quella che pensavo ah questo è forse uno degli eventi più recenti a cui ho avuto modo di partecipare questo è il presidente del Comitato Europeo del Fair Play Messier Rousseau e questo è un momento di pausa mi sbaglio che questo libro ha avuto qualcosa a che fare no? sì con il Fair Play Italiano sì perché il Comitato Nazionale Italiano Fair Play presieduto tra l'altro lo ringrazio da Ruggera Alcanterini mi ha onorato di una fascia che adesso non l'ho portata ma ce l'ha il libro Fair Play perché la mission del Comitato quindi il diritto alla gioia la transizione etica tante parole chiave importanti che ha il Comitato si sono in qualche modo intersecate con il mio volume che attraverso l'istinto vitale mio che voleva in tutti i modi emergere scorre attraverso le pagine del libro cercando proprio questo diritto alla gioia no? Peter Pan il bambino riconoscimento importante sì per me sicuramente sì oggettivamente è una bella soddisfazione perché si è intersecato questo percorso mio con la mission del Comitato che mi ha sostenuto moralmente e questo è un evento dove invece il Presidente Europeo è venuto per fare un punto diciamo di messa a fuoco su alcuni progetti con il Comitato italiano hanno partecipato oltre i 40 paesi rappresentanti di oltre i 40 paesi e quindi sono stati due giorni di riflessioni di messa a punto di queste strategie che hanno a che fare con la pace che hanno a che fare con l'etica il gioco corretto andiamo con un'altra foto vediamo che cosa arriva dalla regia eccola questa era la foto che cercavo sì guarda questa foto tra l'altro sta anche in questo libro che questa è l'unica coppia che mi è rimasta perché questo libro che si chiamava Ethiopian side fotografare attraverso è stato un libro di fotografie mie che è servito ad aiutare la costruzione di un pozzo in Somalia perché io ho fatto questo viaggio in Africa nel 2010 con mio marito e mio figlio tra l'altro era piccolo insomma aveva avuto 10-11 anni e quindi non si era mai visto in Etiopia un bambino bianco dove siamo andati noi di quell'età e così piccolino mi sono innamorata dell'Etiopia e ci sono tornata l'anno dopo tra il primo e il secondo viaggio circa 5000 km con una jeep insomma abbiamo visitato le tribù sai quelle proprio che vedi nei libri con i piattelli labiali ho fatto una vita avventurosa fino adesso e ti auguro di averla ancora come dire bella ancora più piena però ho sentito che dall'alto che forse il nostro tempo è scaduto se mi volevi dire qualcosa di indispensabile chiusura l'Africa rimane nel mio cuore e queste foto che ho fatto le ho gli ho dato un senso pubblicandole e finanziando ne hai portati due quindi ne hai portato uno anche per me no purtroppo non c'è una coppia però me lo fai vedere adesso ce lo guardiamo a fine trasmissione io Lisa ti ringrazio per essere stata qui con me grazie veramente per esserti aperte e avermi confidato tutte queste cose confidate ai nostri amici a casa noi ci vediamo domani sempre alle 14.30 sempre su Cusano Italia TV a domani a domani